Il corporate venture capital italiano è decisamente in ritardo rispetto ad altre geografie. È un problema tipicamente culturale in termini di propensione al rischio, di accettazione del fallimento, di stare in minoranza e di avere a che fare con soggetti molto innovativi ma piccoli. Questa propensione culturale ha anche un impatto in ambito finanziario perché questa è un'epoca dove di denaro ce n'è in abbondanza e è anche disponibile a prezzi vantaggiosi ma le aziende continuano a ragionare su tassi soglia di investimento elevati e su ritorni attesi molto certi e quindi continuano a prediligere un approccio che va verso l'efficientamento di performance rispetto che la ricerca di nuove leve di crescita. Il corporate venture capital non è una novità in Italia perché siamo stati tra i pionieri nello sperimentare questo paradigma negli anni 80 con Olivetti. Poi ce ne siamo un po' colpevolmente dimenticati ma oggi si registra davvero un aumento di sensibilità e di presa di consapevolezza delle aziende sull'importanza di questi temi probabilmente perché le aziende si sono accorte che questo è un approccio che può dar loro vantaggi significativi. Un'azienda che decide di praticare il corporate venture capital si prefigge dei ritorni di natura soprattutto strategica ma anche finanziaria che si sostanziano nell'avere la capacità di innovare rapidamente, di interpretare i trend futuri, di acquisire anche competenze e talenti dall'esterno, di instillare nel management una scintilla nuova di imprenditorialità e poi soprattutto di accorciare il time to market. L'incentivo principale e lo stimolo principale del corporate venturing deve essere rappresentato da un stimolo al mercato dell'exit perché c'è bisogno di poter disinvestire e uscire dall'investimento in modo rapido e snello.